Abbiamo solo un minuto la sindaco, un minuto è già troppo Ci aiuta a risolvere il mistero delle firme che ritornano al futuro, solo questo sindaco e poi la lasciamo andare Le firme che ritornano al futuro, il grande mistero, guardi Non so proprio di cosa sta parlando No, glielo faccio ridere, guardi Abbiamo raggiunto Virginia Raggi mentre era a sciare il settimana bianca Per risolvere il mistero delle firme del Movimento 5 Stelle che ritornano al futuro E cioè per capire essenzialmente una cosa È stato commesso un falso nella candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma? Nella presentazione della lista dei candidati, i 5 Stelle, il 20 aprile 2016 Dichiaravano di avere 1.352 cittadini che avevano firmato per loro Ma il firma delle 5 Stelle, cioè il giorno della raccolta delle firme tanto pubblicizzato sui social È avvenuto tre giorni dopo, cioè il 23 aprile Come dimostra il tweet entusiasta della parlamentare romana, Roberta Lombardi, proprio quel giorno Ma può essere ammessa una lista che riporta un falso? Teoricamente no, è una lista illegittima Si può dire che l'atto principale di presentazione della candidatura della Raggi attesti un falso? Beh sì, certamente, al 20 di aprile attestavo un falso Guardi se vuole tiro la cordicella, spingo il pulsante, metto il disco, chiedete al delegato di lista Aspettino, ma se si fa la domanda Ho ancora paura di ore di sci, se potete andare io vorrei Insomma lei non ci dà una mano a risolvere il mistero delle firme che do il futuro Purtroppo non posso, perché in quel momento ero candidata e ero impegnata a fare altro Ci sono dei delegati che potranno rispondere alle vostre domande, se non ci riescono L'hanno già fatto, ma ci hanno detto dei supercazzoli, ci hanno detto delle cose che non stanno nascendo in terra Il sindaco non ci dà una risposta e purtroppo continua il mistero delle firme che ritornano al futuro